Matrix, come l'hai preso questo derby? Male, malissimo, però hanno meritato, è giusto che ci prendano e mi prendano anche in giro, ma fa parte del gioco. Però io volevo capire una cosa, siccome tu di derby ne hai fatti tanti, di scudetti consecutivi, ne avete vinti tanti, c'è un po' l'idea quando vince, cioè voi ce l'avevate, bastava andare al 70%, hai avuto un po' questa impressione che non fossero proprio al top dell'animo spugnandi? No, non penso, sono tanti fattori che in questo periodo dell'anno possono variare, tipo la condizione fisica, sicuramente l'europeo ha tolto energia a parecchi di noi, che fortunatamente ne abbiamo tanti nazionali, vuol dire che sono bravi, nel momento in cui ritroveranno la condizione penso che l'Inter ha ancora oggi la squadra da battere, e poi complimenti a quelli che magari in questo momento sono avanti, fanno di tutto per battere l'Inter e per togliere lo scudetto, però penso che fino alla fine dovranno fare i riconti con noi. C'è un nuovo Materazzi in giro, ce n'è uno nell'Inter? Sarà mica Bastoni poi? Sì, è Bastoni, è Barella, è Di Marco, gente che vuole bene all'Inter e penso che già la domenica prossima lo dimostrerà. San Siro non ospiterà una finale di Champions, è stato il tuo stadio per tanto tempo, che cosa vuol dire secondo te? Un segnale per il calcio italiano? Mi piange il cuore, perché io amo San Siro, ero da amici adesso in zona San Siro che abitano lì, ho detto trovatemi una casa con vista San Siro, perché penso che sia lo stadio, almeno per me, più bello al mondo, quindi mi auguro che possa ospitare tante altre finali e che si trovi una soluzione che sia adeguata sia per l'Inter che per il Milan. A voi due di Champions abbiamo visto l'Inter, grandissima partita contro il Manchester City, può essere l'anno buono per provare a vincere la Champions, perché sembra un gruppo maturo, un po' come era successo a voi, giocatori esperti che sono pronti forse a fare quell'ultimo step in Europa dopo già averla sfiorata? Secondo me la Champions quest'anno può essere bellissima anche per noi, ma ha ancora più variabili che non nel passato, perché in passato erano due tornei differenti, fino a dicembre e poi da febbraio-marzo in poi. Quest'anno invece è un campionato, poi alla fine bisognerà vedere chi arriva nelle condizioni migliori e poter affrontare le ultime partite, sono quelle decisive.